Andiamo a Sassari dove il progetto Intercultura può essere un ottimo metodo per far restare gli studenti che scoprono Sassari e la provincia grazie al progetto. Vediamo il servizio di Emanuele Fluris. I ragazzi di Intercultura in visita a Sassari per una settimana. Adolescenti di diverse nazionalità che già studiano in Italia per il loro anno di soggiorno all'estero, ora vedono il capoluogo turritano per la prima volta. Questo consente loro di provare a vedere come funziona in un'altra scuola, in un'altra città, come funziona stare in un'altra famiglia anche se solo per una settimana e possono scoprire diverse tradizioni e culture di un altro posto. La prima tappa del tour è il padiglione tavolare accompagnati da chi ha lavorato per la riapertura del museo dopo anni di inattività. Li abbiamo portati al tavolare sia perché è una restituzione recente alla città ma soprattutto perché secondo me ha uno spirito così contemporaneo questo immobile, questo edificio che non può non piacere ai giovani che vengono qui da tutto il mondo. Dal Turchia al Giappone, dalla Danimarca all'Austria, i teenagers scoprono gli allestimenti e la mostra dell'artigianato. È una bella esperienza, è bello per tutto il mondo, devo vedere cose così. L'iniziativa di intercultura mette in comunicazione mondi diversi, si rivolge ai genitori e alle scuole a cui è diretto questo invito. A mettersi in contatto con noi perché è sempre molto bello tenere vivo lo scambio interculturale e conoscere nuove culture pur rimanendo a casa. Intanto tra i ragazzi qualcuno riflette sulla possibilità di trasferirsi un giorno in città. Non l'ho ancora visto, sa, se li vediamo, tra poco magari mi cambia. Grazie a tutti.